Benvenuti a una puntata dedicata a uno dei film in lizza per l'Oscar di Miglior Film 2024. Povere creature, diretto da Yorgos Lanthimos, che pare la magia di Harry Potter, però vabbè, facciamo finta di nulla. Il film, vincitore del Leone d'Oro come miglior film alla ottantesima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, adattamento del romanzo omonimo scritto da... e questa è tosta, spero... Alasdair Grey, spero. Con un cast stellare che include Emma Stone, il film è stato acclamato dalla critica e ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Golden Globe, uno come miglior film e l'altro come miglior attrice in un film commedia musicale. La storia segue Bella Baxter, interpretata da Emma Stone, una giovane riportata in vita dallo scienziato dottor Goodwin Baxter, interpretato a sua volta da William Dafoe. Dopo essere stata resuscitata, Bella è desiderosa di esplorare il mondo e apprendere tutto ciò che le è mancato durante la sua prima vita. Sotto la protezione di Baxter, Bella fugge con Duncan Weatherburn, interpretato da Mark Ruffalo, un avvocato abile ma dissoluto, dando vita a un'avventura travolgente attraverso i continenti. La trama si sviluppa attraverso un contesto di emancipazione e uguaglianza, con Bella che si libera dai pregiudizi del suo tempo. Il film esplora temi profondi e affascinanti. Offrendo uno sguardo su come una donna, resuscitata e libera da vincoli sociali, intraprende un viaggio di autoscoperta e ribellione. Sintonizzatevi per il 25 gennaio, quando Povere Creature arriverà nelle salle italiane, distribuito da Walt Disney Company Italia.